no sai cosa sai cosa faccio topless a parte il fatto che sembro una striscia di bacon per davvero e il mio scudo vola ma facendo delle prove sono anche salito di un paio di livelli ho scoperto che l'armatura non mi protegge quasi un cavolo cioè se i nemici mi uccidono con due colpi con l'armatura mi uccidono con due colpi anche senza armatura quindi tanto vale almeno avere la mobilità al massimo e sciù e sciù via come un anguilla però anche basta citare aldo giovane giacomo ma non mi staranno odiando qui sono abbastanza sicuro visto che dall'altra parte non c'è niente che per andare avanti si vada di qua dimmi quando dove cazzo devo andare qua non c'è niente sicuro mi dovrò lanciare da qualche parte ma ci fossero aste di bandiere farei tipo daredevil ma non ci sono aspetta c'è un c'è una porta lì ma non ce la farò mai a lanciarmi la hoppete vai proprio toh guarda il caso a volte su google mi ha scivolato il dito e ho scritto come cazzo devo andare avanti ad hanno l'ondo di merda fidi pu pezzi me di dark soul e mi è stato scritto a sali su sti cosi neri e corri fino a sopra ma ci si può andare ma io non l'avrei mai e poi mai scoperto ma mai mai nella vita anche perché questo sembra sfondo sembra tutto sfondo qui olè permesso salve chi è dove va sembra la scena di indiana jones dove c'è il lì quelle eh non mi viene adesso aspettate che c'è un attimo di difficoltà eppure tu dove c'è quella specie di sultano con le lame che inizia a farle ballare tutte per sfidare lui e poi lui gli spara in faccia con la pistola io ripeto ma chi cazzo ha mai pensato che il platforming in dark soul fosse una buona idea sul filo di un rasoio no no bastardo non vale bastardo bastardo muorici tantissimo e un altro muorici tantissimo bastardi non vale guarda che basta qua precipito nell'oblio no oh mio dio ho i brividi ho i brividi io soffro di mezzo lo sapevo lo sapevo ecco muorici pure tu bitch che tra l'altro ho scoperto che la zwine hunter spara anche bene cioè mi toglie mi tolgono relativamente poco danno quando paro con questa quindi mi sa che è diventata la mia main weapon è fighissimo facciamoci una bella passeggiata in questa parte è tutta fottuta ho paura ho paura ho paura ho paura stia lì stia pure non si non si disturbi guarda lo sapevo il problema è che non devo distrarmi perché tanto mi tolgono poco guarda cacchio ma dai non ci sto credendo mai facciamo che cambio arma facciamo che mi metto una alabarda più 9 è buona lì aia vieni indietro vieni indietro che c'è un po' più di spazio ok mio dio la faticaccia spostati che non vedo con quali seni però quella statua lì muorici che imbecille ma sono contento tra di loro ce ne doveva essere uno stupido ed eccolo qua speriamo sia comunque la strada giusta almeno quello ma per come c'è una roba lì sul candelabro se la tenga non si preoccupi c'è la nebbia prendiamo la zweinhander zusenstrassen due mani e si va e si va ok niente boss il marchigegno non si mamma mia oibo ci sono tre galgoi lì due giganti là un portone enorme si è la strada giusta mi sa gir la ruota yeah yeah ad annor londo oh yeah yeah e da casa puoi morire anche tu presentazione prince of persia muori subito edition oh ho collegato sto pezzo così non devo oh grazie grazie che aspetti e vabbè già subito a romperle balle e dai 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 mamma mia senza essere colpito mezza volta scudo del gargoi fammelo vedere subito ho sentito qualcuno correre tipo sotto di me no il marchigegno po farbacco non si muove minchia io non sembro ma ho una tensione addosso incredibile perché non so dove cazzo sto andando e ci sono due guardiani di quelli brutti brutti cattivi questi faccio una strana fatica a batterli perché non riesco a capire se posso colpirli di lato oh yeah 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 eh meno male che l'ho sentito due no mamma mia mamma mia ormai non ce n'è lo scudo guarda che sfiga oh guarda che culo tu perché ti sarebbe piaciuto lei cosa vuol fa mi dispiace oh no oh no oh no devo andare mica là per forza una alla volta però una alla volta che già ho difficoltà benissimo bravo l'ho colpito au non mi ha fatto neanche così tanto danno comunque me la mi aspettavo molto peggio oh ho fatto una cazzata enorme enorme aspetta uuu ok e mi sa che devo scendere lì vè grazie grazie per il corrimano guarda come corre tutta la gamba spezzata arrivo ok uno è andato non importa non importa se mi ha colpito l'altro no che cazzo è mi tirano le spade lo so che son brutto e mi tirano le spade però sa che mi serve lo scudo qua oh madonna a parte che quelle non sono spade sono ombrelli cinesi a parte quello e non ombrelli cinesi no proprio gli ombrelli che compri dai cinesi non guardare non guardare che se guardi è peggio se guardi è peggio non guardare se guardi è peggio oh mio di qui ah no cazzo però no con per l'angolazione con cui me l'ha tirata l'ombrello non dovevo cadere dovevo sbattere contro il muro invece ha slittato e mi ha fatto cadere la solita fisica di merda che ti fa morire in modo molto molto stronzo cioè quello non non ah va vai 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 minchia che fastidio che mi sbatte indietro dalla parte sbagliata e dalla parte se lui mi tira l'ombrello verso il muro io devo sbattere contro il muro non verso l'altra parte che fisica è minchia che palle Devo schivare così Ok, ok, ok Ok, siamo incastrati No Oh, l'ho colpito Aia Ma sono cavalieri neri questi? Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Molto, molto piano No, non dirmi che ce n'è altri, eh Mi butto tantissimo Olè Nebbia Cazzo, è ok Non ci sono boss Permesso Falò Falò Sì Non è che sia migliorato poi così tanto Sono platinetto Praticamente Però fa impressione perché lui ha un sacco di pelli nel corpo E proprio manco mezzo in testa Sembra Sembra photoshoppato Ora sono più contento perché voi non avete idea di qua Salve È due di fila Tu sei una trappola Tu sei una trappola, me lo sento Ah no Medaglione della benedizione del sole 3 Cazzo Cazzo Che spavento Manco me ne sono accorto E due Qua è pieno di porte Non si apre da questo lato Io sento un rumore inquietantissimo Lo sapevo che era una porta invisibile Lo sapevo Lo sapevo Oh mio dio non vedo niente Che spavento Mi è arrivato un messaggio nel cellulare Io ero qua in tensione Ho detto Chissà che cazzo c'è qua sotto Quanta roba ho trovato Di Havel Ma Havel quello che ho battuto tempo fa Elmo di Oh mio dio Forse ho trovato un'armatura decente Ok Se voglio fare il tank Forse Questa è l'armatura che fa per me Il problema è che Peserà Una Un quaternario di tonnellate Di Ok c'è lo scudo Niente Ciao vado tank Ciao 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 Bato Sì Lo immaginavo Che non mi Lo immaginavo che non mi permettessero Di usare lo scudo Perché È praticamente Il cancello che c'è al castello del valentino Qua vicino a Toria Era una trappola Era una trappola Lo sapevo Lo sapevo Che schifo Che schifo fa Questo è salito Alla prima posizione Dei miei incubi peggiori Ma dove colpisce il mio personaggio Però Bitch Un randello Manca solo il badile E abbiamo completato Tutte le armi più stupide del mondo Io continuo a sentire Questo rumore Inquietantissimo Già la scala Non è Un granché Come l'han fatta In più la telecamera Mi fa venire I vomiti Chi c'è lì? Un demore della titanite C'è qua sotto A parte che Da dove sei cicciato fuori tu? Ma ormai Vi bisciotto Come niente Che cazzo Di spavento No ma quello no Ma che arredo è? Ma che gusto C'ha sta gente? Ma comunque C'è un'altra Un'altra scala Che va su Però non so Angolata In qual modo Nel senso che Non ho idea Di come fare Per salire Buongiorno Allò C'è troppo lozzo Sento gente che spara Non sto capendo Ti ho visto la spada? Non te l'aspettavi Dillo Dillo Uh scudo del cavaliere D'argento Però io mi sto districando In luoghi misteriosi E strani Madonna è scoppiato È scoppiato tantissimo Dimmi che c'è un baule Pieno di sorprese magiche No c'è un'altra scala Ma quanto è labirintico Sto pezzo Porca miseria Non va bene No No Bastardo Ti attacco Sei scemo No io Non ce la posso fare Non so dove andare Vado giù Ah aspetta Questa è Eccola Ho trovato la scala Che si incastrava Con quella prima Mi sa Se la telecamera Non mi fa vomitare Sono dalla parte giusta Su Giù Ma dove Senti tremolare Il globo dell'occhio nero Eh Ok Toglimi la scritta Che sta arrivando uno A parte che Chi è questo qua È molto più grosso Degli altri Ma molto più grosso Degli altri Oh nebbia Eh Andiamo bene Sarola Ovviamente Mi ha colpito Perché siamo Punto e a capo Sempre Con sto cacchio Di Dark Soul Ok Ok Gli manca un colpo Gli manca un colpo No Bastardo Bastardo Sei curato Qua ci muoio Se non sto attento Ma Vabbè Vabbè Questa è proprio La più grande Puttanata Mi ha Ma vabbè Colpito attraverso La colonna Minchia Che merda Dai Non potete dire Che non fa schifo A volte Mamma mia E ci muori Però Ci sei morto Comunque Vedo della nebbia Ed è la terza Quindi mi sa che La terza è la volta Buona No minchia No minchia Anche lui Che mi spara No però Non va bene Questo Non va bene Non va bene Non è morto No E c'è morto Forse riesco ad andare Con due fiaschette Forse ce la posso fare Tanto anche le anime No Eh sì Dai buono tu Senti Ti ignoro altamente Vado Frega niente Sciagaro Oh cazzo Che schifo Che C'ha le tettissime No Che schifo Oh madonna Gianni e Pinotto Orsteen Al mazzatraghi E smug Il giustiziere Sono due rigurgiti Slavsteen Al mazzatraghi Il giustiziere Aiuto No Ma come No come posso fare mai Per batterli questi Tipo se non li colpiscono neanche Per esempio Voglio quello smug Smilzo prima Madò 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 Datemi con lo smilzo E no E vabbè E vabbè Già che non è abbastanza difficile Adesso spara Eh sì E vabbè No ma è impossibile No ragazzi È impossibile sta roba qua Ecco finito Ho finito Ho finito Ho finito le anime Ho finito le Le fiaschette È la fine Ma da dove Certo Facciamo che non ho Ma vabbè Ma come cazzo si fa in due In due boss Ma dai Gli ho tirato un colpo solo Gli ho tolto una Una caterva di Però gli ho tirato un colpo solo Ma come si fa Ma dai Ma dai Ma dai